la società multiculturale è una realtà in cui le storie le vite le speranze di chi arriva si incrociano con quelle dei cittadini e li accolgono e che spesso hanno dimenticato di essere stati a loro volta migranti migranti come noi nasce dall'esperienza diretta dell'autore che un racconto in tessuto di fatti concreti una riflessione anche di carattere sociale e pastorale quando pensiamo di migranti sorde spontanea l'immagine di persone bisognose di tutto magari con una valigia di cartone in mano e se i migranti fossero invece persone con una ricchezza di cultura e di conoscenze persone che portano con sé stili di vita ricchi di contenuti e di storia